Musica E giorno a tutti i folli qui siamo in un nuovo video Questa volta non è qualcosa di molto elaborato ma è un backstage Più precisamente dell'ultimo video che è andato molto bene Che è quello della Shatenet Che vi lascio qui in descrizione Non è una recensione ma è una cosa un po' scherzosa Comunque ricordate di mettere like a questo video se ne volete altri molto simili Tipo qui, qui, qui o qui e iscrivetevi Perché chi non si iscrive non è un vero uomo O donna dipende perché il nostro pubblico deve essere vario E buona visione No, non sto fare mai qualunque cosa accadesse nella vita, ok? Me lo prometti Oh, non devi mai stopparla Bene Ah, bene Aspen Così No Non c'entri No, non c'entra Non fa così però Eh, non posso Vabbè, fai Eh, siamo qui con Francesco e Faro down A fanbraccio Ah, la comodità di un Di un tonnarello allo scoglio Ora ci vediamo con la prossima inquadratura Aspetta, mi madre vuole che la chiamo quando riparte Mamma Guarda che mi chiamo Giuseppe Noi stiamo ripartendo, stiamo andando verso Santa Maria E stiamo a fare il video Franci non mi devi chiamare mamma che mi fai ricordato aver fatto tanti errori nella vita Corri forte che poi magari te vai pure a schiantare Attento Va benissimo Ciao Ciao, a dopo Vai con la bici là e noi ti mettiamo qua Che vuol dire un po' all'ombra Aspetta, aspetta Allora tu sei là Guardi dalla macchinetta Io arrivo Ma perché hai cambiato la password? Ma chi stai affagato? Ma dalla arriva Eh? Ma dalla arriva Quanto è dimagrito? Nulla Marco ci serve un minerale Minerale Un minerale Balladio Balladio impoverito Sì Adesso usciremo da codesto cubetto a ruote E appoggeremo il telefono qui perché ora non ci serve più E con questo schiocco di dita Ho già switchato al microfono della GoPro Per non parlare delle fantastiche plastiche Vedete qua Qualità Qualità vera Perché sono state fatte con Oddio Oh ma che stai affa De qua scusa Che stai affagato No ma non è come se Non c'è stai affa il video? Io t'avo detto Ma perché hai cambiato la password poi? Perché? Spiegamelo Io t'avo detto che non fallo e cambi pure la password No ma non è come se No Non puoi prendere il telefono Oh fermo Ma dove vai? Ma mettiamoci d'accordo Scu... No 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 Guarda questo Francesco Mettiamo dai da race Andiamo Ok C'è il laccio in faccia C'è il laccio in faccia Si vede Arigame ti ho sgarato la faccia C'è il laccio C'ho il gancio Vabbè Sfila qui No Ok Ma devo fare un effetto Ma quando si fa il taglio Però mi devi prestare a Yeezy Però mi devi prestare a Yeezy Le spie si alzano Che vuol dire? Le spie non fanno No 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 Grazie a tutti